Per la prima volta anche i cittadini sono resi partecipi di una sorta di esperimento per quanto riguarda il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico. Sì, Pavia dovrebbe diventare una sorta di laboratorio, aderendo e diventando città test per un progetto europeo, Pulse, di Horizon 2020, che prevede appunto di monitorare in maniera diffusa la qualità dell'aria e questo verrà fatto mettendo a sistema sia 10 centraline che sono di proprietà di SM e altre 30 centraline che saranno acquisite nell'ambito del progetto. Queste centraline verranno distribuite per la città in parte in luoghi che riteniamo particolarmente sensibili, quindi o luoghi trafficati o scuole, o luoghi in cui possa esserci una particolare attenzione più che gli altri rispetto alla qualità dell'aria e in parte verranno messi a disposizione di cittadini che possono essere volontari e quindi doneranno i dati che raccolgono sulla qualità dell'aria dal loro balcone in sostanza. Accanto a questo, sempre nell'ambito della sperimentazione, chi vorrà partecipare potrà mettere a disposizione i suoi dati relativi agli stili di vita, cioè quindi quello che fa durante la giornata, tramite un dispositivo sempre che verrà messo a disposizione dall'Università di Pavia e anche si potrà accedere ad una app che darà invece un ritorno, quindi che potrà dire ai cittadini qual è la qualità dell'aria nella propria città quasi in tempo reale e quindi in questo modo andare a ricalibrare il proprio stile di vita o la propria attività. Questo chiaramente per noi è un progetto molto significativo perché tutti sappiamo quali sono i problemi di Pavia legati alla qualità dell'aria. È un progetto che ci permette da una parte di capire e avere maggiore contezza dell'impatto che ha l'inquinamento da automobili, ad esempio in alcune parti della città, l'impatto che invece ha l'inquinamento legato al riscaldamento e potrebbe quindi anche ad aiutarci a fare alcune scelte riguardo alla mobilità proprio in relazione a quello che raccogliamo. Pensiamo anche che sia un progetto che possa portare maggiore consapevolezza nei cittadini rispetto all'impatto che i propri stili di vita hanno sulla salute collettiva. Quindi è un po' un esperimento su cui ci lanciamo, a cui chiediamo veramente a Pavia di mettersi in gioco. La prima call sarà domani sera alla notte dei ricercatori in Castello in cui i ricercatori dell'università daranno le prime informazioni e raccoglieranno l'adesione dei volontari. Volontari che poi, per quanto riguarda la collocazione del sensore, saranno scelte anche sulla base della loro posizione geografica in città in modo tale da realizzare una vera e propria rete distribuita nei luoghi che riteniamo più significativi. Come funziona il progetto PALS? Nel progetto PALS i cittadini vengono coinvolti nella raccolta di informazioni che riguardano la qualità dell'aria che loro respirano tutti i giorni e il loro stile di vita. Il loro stile di vita vuol dire come si muovono, se sono dei cittadini attivi, se hanno dei loro problemi e come percepiscono la zona in cui vivono tutti i giorni. Queste informazioni vengono raccolte in un unico server che viene poi analizzato da chi deve prendere delle decisioni, quindi sia le agenzie di sanità pubblica che ovviamente comune, piuttosto che un domani potrebbe essere la provincia o la regione, che è in grado di combinare tutte queste informazioni con quelle che hanno già a disposizione.